Io manco non volevo fare questo lavoro. Io altri vent'anni qua dietro mi ammazzo. E che ti vuoi inventare? Tu preferisci farti vent'anni di galera che vent'anni alle poste. Buongiorno, Meroni. Buongiorno, Ucazzi. Se fa di chiesa tre, se qualcuno mi chiede qualcosa io non so niente. Tesi? Io so pensionato, al massimo posso organizzare una briscola. Se ti nascondi dentro la cassaforte, basta che scambi i sacchetti quando quello va a fare in cinque, capito? Quanto pensi che ci mettono a capire che ci sei in mezzo anche te? Quelli il giorno dopo partono in Costa Rica. Quattro miliardi. Se stavi dentro un affare così grosso, figuriamoci se non venivi a chiedere il permesso. A me. L'unico modo di viaggiare è rimanere dove hai voglia di fermarti e partire quando senti che devi andare. Mi mancherete! Dov'è che vai te? Guarda che non ce l'ho mica l'amante. Me la posso permettere. Buota il giorno. Grazie per la visione!